Perché e dove una superautomatica rispetto a una macchina tradizionale? La macchina superautomatica è sicuramente una macchina con degli ingombri minori, è una macchina forse anche con una velocità di erogazione maggiore, soprattutto non ha bisogno dell'esperto, non raggiunge il 100% come un ottimo barista con una macchina professionale però garantisce la costanza. La macchina tradizionale invece ha la caratteristica per eccellenza di creare un'esperienza perché il consumatore entrando nel locale sente gli aromi che vengono dalla macinatura fresca del caffè, sente il rumore del portafiltro, del macinino, il vapore per l'erogazione dei cappuccini, quindi già viene preparato sensorialmente, per cui sicuramente ha un forte impatto ed è sicuramente da privilegiare da questo punto di vista rispetto alla macchina superautomatica. Un altro vantaggio della macchina tradizionale sono i costi di gestione. È vero che durante la giornata necessita di meno attenzione ma la macchina superautomatica richiede tanta manutenzione nel corso della vita e è una manutenzione molto più precisa. Per quanto riguarda gli aspetti estetici, sicuramente la macchina tradizionale ha un design completamente diverso per cui può caratterizzare anche un locale. La macchina superautomatica si nasconde, occupa meno spazio come dicevamo ed è in qualche maniera però più efficiente, proprio perché rispetto allo spazio occupato è in grado di dare una produttività più alta e maggiore. Grazie. Grazie.